Prima modalità è quella zombie, ti prego fammi fare lo zombie Ok, allora siamo tutti crewmate nella prima modalità zombie Tra tipo 12 esatto secondi In teoria e anche in pratica Qualcuno diventerà uno zombie Molto lento, molto cieco Ma che farà molto male Quindi il nostro compito è quello di fare le task Sperando di riuscire a non farci zombificare Mi hanno zombato Ok, va bene Gameplay da zombie Dannazione Ok, quindi dobbiamo andare a cercare gli altri Tipo lui, tipo lui, tipo lui E riuscire a zombarlo Per ora siamo in 8, stiamo giocando in 8, non in 10 Oh, c'è un tipo Oh, ci sono due tipi Mi sa che non ho zombato uno Sì, 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 ho zombato sto tipo Perfetto, perfetto, bene Sì, zombato, bene Ne manca uno Vedete che la barra delle task è quasi alla fine Perché quando uno diventa zombie Tutte le sue task si completano Perciò dobbiamo fare veloce a riuscire a prendere l'ultimo Sempre se lo troviamo Tra l'altro se volete Vabbè, magari ve l'ho già detto durante l'intro Se volete scaricare anche voi le mod Ce ne sono tantissime Iscrivetevi al canale E soprattutto guardate il video Che in caso vi metterò o in descrizione O nel primo commento, non lo so Così almeno anche voi riuscirete a scaricarle E ci giocheremo in live insieme Ma adesso non perdiamo tempo Perché stiamo per perdere Dannazione, manca solo una task Dannazione Dai, non riusciamo a trovare l'ultimo Dov'è l'ultimo? Usiamo il potere dell'admin Potere dell'admin, attivati Non ci capisco niente Bene, è stato inutile Sì, l'hanno zombato Era sto tipo rosso Sì, ok, va bene Play again, play again Ne facciamo un paio con la modalità zombie E come vi faccio vedere Credo di non avervelo mai fatto vedere Facciamo slash game mode Vedete che ci sono tutte le modalità disponibili In questo video facciamo Quella zombie e quella Christmas A tema natalizio Anche se è passato da circa sette anni Però comunque la proviamo Allora, in teoria In questa modalità è molto meglio Non essere zombie Però se magari lo fate fare Ma ti prego Ok, ci dice di star z Creumasser Va bene, creumate, creumate Quindi c'è un impostore Che non siamo noi No, zombie incoming The game ripped Fratello zombie Ripperoni No, no, no Ti prego No, non prendere me No, non esisto Non esisto Ciao Ok, quindi facciamo il fuel Sperando che non ci venga da dietro E non ci mozzichi il collo Madò, c'è una tensione nell'aria Quando vedi tipo lo zombino lì così Uh, c'è la card Devo fare la card veloce Veloce Fai la card Ok, mi sa che non mi ha visto No, sì Sì, sì Mi ha decisamente visto Prendi lui Ok Corri, corri Ti prego Scappa, scappa Ok, va bene Per ora Oh, stiamo andando bene Magari ce la portiamo a casa come creumate Sarebbe una cosa leggendaria E ci proviamo Guardalo là, guardalo là Oh, mi sa che è l'unico No, 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 no Non è l'unico Non è l'unico Ok, va bene Scappa Scappa un botto Dovrei fare la task Facciamo giro giro tondo Vai Ok, ora che l'ho stordito Possiamo fare la task Ne mancano pochissime Dai che la vinciamo Ok, ok Ok, tra l'altro vi ricordo che Abbiamo vinto come zombie Però hanno perso Poverini i tizi Ci sta Carina, carina Dai Tra l'altro ho dovuto mettere Andrea Perché tipo nomi strani Non me li metteva Ok, seconda modo Ho messo quella di Natale Ti prego Fammi fare Babbo Natale Ti prego, Gio Vabbè, siamo delle renne Come vedete ci sono Babbo Natale E il Grinch I quali devono Madò, quanto sono lente le renne E perché lui c'è il cagnolino Non lo voglio anche io Vabbè Dicevo Babbo Natale E il Grinch Devono riuscire a catturarci E noi come Una volta catturati No, ho sbagliato Una volta catturati Finiamo tipo in una sorta di prigione Molto a tema natalizio Dalla quale però possiamo scappare Grazie all'aiuto delle altre renne Quindi, guardalo lì l'elfo Guarda No, scappa No, ti prego Ti prego, no Mi hanno catturato Dai, sono stato il primo Quindi vedete che se provo a scappare Non funziona Sono il classico prigioniero Quindi, in teoria Se le altre renne Riescono a venire Uh, tra l'altro c'è una tasca Che chiude Riescono a venire qua da me O comunque mi vedono Possono liberarmi Ti prego, Babbo Natale Non farmi niente Ho una famiglia Ok, sono già stato catturato Tranquillo, Babbo Natale Ho già sofferto abbastanza Ok, quindi 19-20 Mi mancherebbe solo una tasca Che è tipo No, mi hanno chiuso pure Le porte E io le apro Disrespect Guardalo lì Un altro socio No, lì sono in due Oh, mi sa che è lui Sì Grande, grande Ci sta liberando Vai, venite amici Amici No Li ha catturati tutti In una Sì, abbiamo vinto Non so perché Ma abbiamo vinto Play again Sì, l'urla del sim Ok, dai Aveva fatto Tana libera tutti Ok, ne voglio startare Un'altra Ma magari ne facciamo Anche una terza Non si sa Vediamo come va la situazione Però se mi fai fare Babbo Natale Dai, basta Allora, loro hanno anche le corna No, abbiamo il cappellino Dammi almeno il cagnolino Assolutamente no Ok, va bene Volevo farvi vedere Come era da Da elfo Che chiameremo grince Perché verde Oppure da Babbo Natale Che ho fatto in live Tra l'altro A casissimo E però Niente Mi sa che non è questo il momento Tra l'altro Però se voi siete Babbo Natale E uccidete uno di noi Una renna Vi chicca Dalla partita Completamente Infatti l'avevo fatto in live E purtroppo Sono stato chiccato malamente Io l'arenna e il cagnolino In caso di pericolo Sacrifichiamo il cagnolino Dobbiamo andare in web No, no Santa Non è come sembra Aspetta, aspetta Che non ci ha visto zitto No, no Stai andando incontro al suicidio Rip, rip Guarda che sono lì Tutte e due No, li devo liberare Ok Nuova missione Libera i soci Un po' di musica epica In sottofondo No Ho detto musica epica Vabbè lasciamo perdere la musica Devo andare a liberarli No, l'elfo mi ha visto No No, ti prego No, volevo solo liberare i miei amici Signore elfo Ma signore elfo No, ok Mi sa che ce l'ho fatta Sì, sì è fatta Raga è fatta What up Prendi No, no No Dai No E niente, è la fine È andata Però Babbo Natale Cioè l'elfo insegue me Io insegue Babbo Ok, va bene Ok, quindi Piano B è passato No Sono l'ultimo rimasto dei miei amici Presi tutti Sì Scappate i miei prodi No, siamo morti Ho benito Perché? Ma va bene Ok Yes Va bene Quindi amici Queste erano due delle Otto credo Mod che abbiamo Se volete giocare anche voi con le mod Iscrivetevi al canale Entrate su Discord Comunque il video ve l'ho linkato E vi do appuntamento domani Alla solitura ovvero 7 e un quarto Con un nuovo video Ciao E ora si va a giocare le 50 contro 50 Woo Uuuu Alla solitura ovvero Alla solitura ovvero Ciao Grazie a tutti.